Interessante sotto il profilo squisitamente tecnico della serata, un miglio per anziani categoria B5 in 6 al via dopo il ritiro di Algeria Jet, 1 e Sexy Girl par Vincenzo Lungo, 2 e Sexy Star par Giustino Panico, 3 Tursio Pejet, Giorgio D'Alessandro Junior, 4 Ariel Griff, Antonio Esposito, 5 1 di maggio, Vincenzo D'Alessandro, 7 Zanzibar Wise AS, Massimo Castaldo, si ritrae Zanzibar Wise AS, stacco della macchina, andati. Ariel Griff impegna Tursio Pejet, a largo 1 di maggio, va per la conversione alla corda Ariel Griff, i 200 metri iniziali coperti in 12 e 8, si mette subito sulle gambe in terza corsia Zanzibar Wise AS che scavalca e Sexy Star par dalla corda viene via, 1 di maggio che punta in avanti ai 400 passati in 28, scherzo, davanti alle tribune 1 di maggio che sfila nei confronti della condiscendente Ariel Griff, rimane in fuori scoperta Zanzibar Wise AS, i 600 in 43, le mosse di Zanzibar seguite da E-Sexy Star par, da E-Sexy Girl par, ha sbagliato E-Sexy Star par, si va verso metà gara, gruppetto compatto, sono rimasti in 5 gli 800 metri iniziali, in 58 e mezzo con una di maggio che ha a destra Zanzibar Wise AS, in schiena Ariel Griff, seconda paride dei fuori per E-Sexy Girl par, il chilometro iniziale in 1'12 e 5, una di maggio è messa sotto pressione da Zanzibar Wise AS quando si va a 450 metri al termine, respinge il primo tentativo dell'avversario, la dritta opposta ancora in 13 e 9, una di maggio e Zanzibar Wise AS che insiste dalla corda prova a venire via, Ariel Griff che non ha spazio per la presenza di E-Sexy Girl par, la retta arrivo con Zanzibar Wise AS a lato di una di maggio che allunga lungo i birilli c'è anche Ariel Griff, una di maggio è in vantaggio, accento a conclusione Ariel che prova un aggancio che ancora non trova e una di maggio vince anche a giugno davanti a Ariel Griff, poi per il terzo sono vicini Zanzibar Wise AS e Tursio Peggetto, 1'56 il totale appena abbondante per una di maggio, Vincenzo D'Alessandro Junior, il training in coabitazione con Raffaele ed Alessandro, i colori sono quelli di famiglia, seconda vittoria nelle ultime tre uscite, la prima dopo un mesetto e mezzo di stop per la figlia di Letouquet, al secondo termina Ariel Griff, al terzo è Sexy Girl par 5-4-1 l'arrivo della quinta. Grazie